ci giocava fabio capello vero fabio capello era un giocatore della spa una volta l'ho incontrato sull'autobus quando ero piccola e tu hai conosciuto fabio capello lo conosco adesso sicuramente fa parte dei che è stato l'altro grande allenatore della della roma sicuramente anche in italia ci sono tanti grandi allenatori per questo che anche non solo un piacere ma è un onore di venire qui in serie a allenare la storia di come sei arrivato alla roma appassionante